Siamo con il Presidente della Fondazione Carnevale, Antonio Coniglia, siamo da Ciriale a poche ore dalla fine della manifestazione. Presidente, il bilancio è positivo? Il bilancio è assolutamente positivo, ma non siamo noi a dirlo, ma sono i visitatori, i cittadini che ne hanno preso parte. Ovviamente ci sono delle cose da correggere, lo faremo nel corso del prossimo anno. Questa manifestazione ha tutte le caratteristiche per diventare un pezzo fondamentale dell'offerta turistica siciliana, perché si parla di artigianato artistico e devo dire che in questi termini noi non siamo secondi a nessuno. Grazie a tutti.